Avvicinare i più piccoli al mondo dell'arte, una sorta di percorso educativo non solo di puro intrattenimento, in un festival diffuso dedicato in particolare alle famiglie e proprie bambini, curato da Vito Alfarano con l'Alfa ZTL Compagnia d'Arte Dinamica. No alla discriminazione, sì all'inclusione sociale e al rispetto degli uomini, delle donne, delle persone in genere, della loro peculiarità e fragilità e il tema al centro di tutti gli appuntamenti che si concluderanno con uno spettacolo Circenze il prossimo 27 agosto. Il Brindisi Performing Arts ha pensato praticamente ai bambini e a tutta la comunità anche di Brindisi con degli spettacoli per gli adulti e poi alla sezione Kids che è ospitata nella cooperativa Eridano con Trada Bethlehem, quindi in una pineta bellissima e in un luogo molto speciale. Questo festival è pensato per veicolare dei temi importanti come il valore dell'amicizia rispetto dell'ambiente ma anche l'inclusione e appunto nel nostro pubblico molti posti sono pensati e offerti alle persone fragili che non possono comunque raggiungere questo luogo, il luogo del teatro o comunque l'arte teatrale. Ovviamente due appuntamenti sono già stati fatti ma ce ne sono tanti altri. Sì, ce ne sono altri due per i bambini, particolarmente solo per bambini, spettacoli di attori e i burettini, uno giovedì con Alice nel regno di Poseidonia, quindi parleremo del mare e del rispetto del mare e martedì prossimo con il regalo più bello che veicolerà il tema dell'inclusione. E poi ci sarà anche uno spettacolo sabato invece pensato per le famiglie, uno spettacolo circense nella cornice del parco Bucicchio che è anche un parco che sta rinascendo a Brindisi, quindi siamo contenti di sostenere questa realtà.